Ciao ragazzi sono Giovanni Ciao ragazzi sono Giovanni No tu sei Alessandra Ciao ragazzi sono Alessandra Oggi sono qui con voi Oggi sono qui con voi Per sentire La colonna sonora Del nuovo Like Horses Allora per sentire la colonna sonora Del nuovo Like Horses Ma che è nuovo? Il titolo è sempre lo stesso È un remake mamma Ah non li fai da capo? No è una storia diversa Con personaggi diversi Soltanto il titolo e il protagonista è lo stesso Soltanto il titolo mamma Ma perché? Vabbè tu sei qui Siamo qui tutti insieme Siamo qua tutti insieme per vedere Per sentire la colonna sonora del film Le remake Like Horses Esatto in realtà voi ragazzi non la sentirete Perché è per ragioni di copyright Però mamma la sentirà ecco Pronto? Ti filmerò la tua reazione Va bene? La reazione di una cosa? Sì Un film del terrore sicuramente Perché la musica non è allegra Eh può essere anche un film drammatico Dramatico 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 Hai Mi piace? è partita è partita è finita commenti è bella ma è solo questa in tutto il film o c'è un'altra? ci saranno dei piccoli dei piccoli motivi motivi questa è la colonna suonata principale dunque sarà di base su tutto il film sì, probabilmente è ovviamente composta da Mohammed Al-Khalifi lo stesso che ha composto la musica di How to Reach Paradise ok e quindi sì diciamo che ha speso tipo tre mesi per farla forse anche un pochino di più e questa è quella che è uscita è bella notevole composta da Mohammed Al-Khalifi lo stesso che ha composto le canzoni per How to Reach Paradise il corto è brevissimo è niente male ovviamente dovrà comporre altre diciamo ah beh però capito però questa è proprio figa poi proprio sul genere tuo no? sì esatto perfetto molto The Island no? che ha fatto quella di The Island no è simile è figa bella bella musica è bravo Mohammed Mohammed sai come lo dicono gli inglesi? lo chiamano Mohammed Mohammed lo sai quanti anni ha questo che ha fatto questa canzone? eh c'ha 19 anni tanta roba sì bella ottimo tanta roba veramente bravo mazza però deve essere intervallata anche da qualche altra cosa devi fartela fare da qualcun altro no è sempre da lui ah sì te lo sta facendo? sì magari più perché questa come base ci va bene forse ci vuole qualcosa di più alto no? dei tratti più alti diciamo che per secondo le motività del film no? dei punti un po' più alti sicuramente sicuramente poi ci penserà lui eh